ho conosciuto 5 campioni ho scoperto 5 storie impossibili forse è stata una barriera molto più mentale che fisica in qualche modo ed ho capito che si può rinascere sempre the unbreak ball con eleonora abbagnato dal 7 giugno tutta la serie disponibile in esclusiva su rai play sono le nostre cicatrici che ci rendono unici start your impossible toyota grazie